Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla 1, coda in uscita a Firenze Sud, provenendo da Bologna, per traffico intenso. Ci spostiamo sulla Firenze Mare, rallentamenti a code per traffico, verso Firenze, tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola, e tra Prato Ovest e il BV11A1. In scipili, coda e tratti per traffico, tra la Strassigna e Firenze Scandici, ancora una volta verso il capoluogo. Segnale ben oltre la presenza di Nebbia Banchina, 12 tra Colle Salvetti e Rosignano, e in Fipili, Traimpoli e Montopoli. Uno sguardo al traffico ferroviario, informiamo che le biglietterie di Montecatini Terme e Orbetello, quest'oggi, sono chiuse al pubblico. Prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze, nell'ambito dei cantieri tramvia, troviamo restringimenti fino a fine mese in via Gordigiani e via Buonsignori. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!